io notato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio della vergine maria valeria copponi questa mistica di roma andiamo a leggere il messaggio del 14 giugno 2023 pirati dallo spirito santo affinché possa donarci alla fine della lettura del messaggio una comprensione e una spiegazione del messaggio della nostra e vostra madre celeste vi invito come sempre se non vi siete iscritti al canale di iscrivervi e di lasciare un commento io sono la vostra santissima madre non abbiate paura per questi tempi bui e state vivendo perché presto il figlio mio metterà in voi la pace il desiderio del paradiso la vostra terra è consumata in tutta la sua pienezza e purtroppo non vi darà più ciò che desiderate io prego sempre il padre vostro perché vi dì ancora un po di pace ma purtroppo la gran parte di voi ha lasciato la santa messa e tutto ciò che divino e che vi aiuterebbe a guadagnare la vita eterna figlioli voi che sapete quanto i vostri tempi sulla terra vi stiano accorciando pregate per i vostri fratelli affinché il padre vostro che dai cieli dovrà giudicarvi sia generoso soprattutto con i suoi figli che non hanno rispettato i suoi comandamenti grazie a voi che avete seguito i miei insegnamenti continuate a catechizzare i vostri fratelli al di fuori della chiesa cattolica apostolica romana i vostri fratelli lontani da dio avranno molto da soffrire nei tempi che verranno la loro ignoranza per quanto riguarda il paradiso li porterà alla sofferenza eterna pregate e fate pregare affinché il vostro padre eterno abbia compassione di tutti i suoi figli lontano dalle sue leggi io vi affido tutti i miei figli lontani dalla verità affinché possano chiedere perdono prima della loro fine terrena la vostra santissima madre celeste esiste una maggioranza che pensa che tutti i messaggi mariani che rappresentano la chiesa cattolica non siano veri sto parlando delle apparizioni che non si chiamano apparizioni si chiamano canalizzazioni che il demonio ha portato dal 1800 ad oggi attraverso questa sua cara figlia che è la new age la new age è la contrapposizione ai messaggi mariani la new age sono questi angeli caduti che si spacciano per gesù per la madonna per michael jackson per anubi per astan sheran per entità che nessuno le ha mai viste nessuno mai le conosce per dire a tutti che il paradiso o l'inferno il purgatorio sono delle favole ma che esiste la reincarnazione e che tutti noi abbiamo la possibilità attraverso ripetute reincarnazioni di diventare degli dei perché tutti proveniamo non da dio ma da questa specie di dio che si chiama aton o anton o aton che è lo spirito dell'universo lo spirito della creazione che ha creato tutto e tutti e attraverso la reincarnazione ci dà la possibilità di imparare più leggi più vite più esperienze di purificarci e anche noi un giorno diventare creatori di universi nell'infinito questa è la new age e quindi la madonna ci chiede di pregare per i lontani della verità che sono tutti coloro che abbracciano la new age e credono nella reincarnazione attenzione ci sono tanti cattolici in italia e credono nella reincarnazione e c'è una grande setta italiana che promuove la reincarnazione attraverso il loro leader che ha le stimmate in italia abbiamo parecchi stigmatizzati uno in particolare promuove la reincarnazione promuove il perdono di satana e per non destare sospetti e immerso nelle opere di bene e nel sociale ma di personaggi così ce ne sono tantissimi in tutte le nazioni che promuovono la reincarnazione nonostante siano cattolici vanno a messa si cibano di gesù alcuni credono nella reincarnazione e si cibano della santa eucalistia altri l'esatto opposto e quindi oggi noi dobbiamo portare nelle nostre preghiere davanti il padre tutte queste anime che seguono queste sette sul quale nessuno al controllo attenzione non dobbiamo andare da questi nostri fratelli e sorelle perché sono nostri fratelli e sorelle in cristo e dirgli devi abbandonare perché questo perché quello il nostro compito davanti il signore signore io metto nelle tue mani queste anime per favore salvale perché c'è un grande dono da parte del padre che libero arbitrio e così come vengono da me nel dirmi ma come fai a conciliare l'universo abitato con gesù con la madonna che non c'entrano a niente io dico queste persone come fai a tu a credere che che non esista un dio che abbia creato tutto per me questo dio ha un nome gesù cristo allora avanti nella preghiera per i credenti per i non credenti per coloro che sono lontani dalla verità e oggi non siamo chiamati a fare la guerra al nostro prossimo o alla chiesa o al papa oggi siamo chiamati a mettere nelle nostre preghiere coloro che credono coloro che non credono coloro che sbagliano coloro che sbagliano di meno coloro che confondono pensando di fare informazione e coloro che confondono in modo solare e quindi mettiamo nelle mani della santissima materialità soprattutto le anime che sono complici del peccato dell'aborto e tutti i nostri fratelli e sorelle che stanno morendo in peccato mortale con o senza il battesimo sia lodato gesù cristo per mezzo del cuore immacolato di maria vostra e nostra madre Amen Grazie a tutti